La scena dove prima avevamo la stagione di pittura e ora voglio spostare perché lì sta molto benificata tutti i giorni e quindi lì ce ne ho altre quattro e facciamola che non li voglio spostare faccio un conto di remora perché lì è molto tranquillo e poi altre hanno fatto l'abito per lì e poi ci sono le regole e poi andiamo a sottopoli perché è un capo piano e poi sono un po' di colori e ora lo faccio in casa io al mio occhio c'è un po' lì e gli metto la crema è sempre la proiezione 50 perché la pezza è più dentro è stato un po' di colori no, il mio esce, però non è che tanta massa che si può restare è perché non è a me, a me, a me, a me, a me a me, a me, a me 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 Buona vita, buona vita. 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 Grazie.